Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video io insieme ai miei due pastori tedeschi vi invitiamo venerdì prossimo a partire dalle 21 per un evento per festeggiare i 1000 iscritti del canale youtube di Simdrivers in compagnia di Luca Lazzarato cercherò di fare una live ed un commento appunto per cercare di divertirvi un po' ci sono 20 posti disponibili dai 30 perché già le iscrizioni sono partite ragazzi all'insegna del puro divertimento cercheremo di fare questo evento su Assetto Corsa con le 458 GT2 sul bellissimo circuito di Spa quindi ragazzi se volete divertirvi insieme a noi e festeggiare questo grande traguardo raggiunto appunto dal canale di Simdrivers non esitate ad iscrivervi se non volete correre però ci potete seguire live a partire dall'eventura sempre sul canale mi ringrazio non posso altro che ringraziarvi intanto per il supporto che mi state dando l'affetto soprattutto se l'evento e l'iniziativa vi piace pollice in su come al solito non esitate a lasciare un commento iscrivetevi al canale tanto è gratuito io vi aspetto venerdì 17 agosto a partire alle 21 per festeggiare insieme a me e ai ragazzi del campionato Seat Leon TCR questo obiettivo che abbiamo raggiunto i 1000 iscritti ragazzi a venerdì alla prossima da Fabrice è tutto ciao iscriviti al canale